E si è lodato Gesù Cristo. Ecco siamo alla prima delle quattro via crucis che termineranno con il buio. Questa, quella dell'8 dicembre, quella del 28 dicembre e quella del primo sabato di gennaio. Vuol dire che siamo nella fase dove il giorno è più corto, dove c'è la notte più lunga, dove appunto si parlerà sempre più di inverno. Ma purtroppo non c'è soltanto un inverno meteorologico, c'è un inverno dei cuori, c'è un inverno delle anime oggi, c'è un inverno del mondo anche se non mancano, per grazie di Dio, i segni di primavera. Era il primo dicembre di 33 anni fa, 1985. La regina dell'amore si rivolse a Renato personalmente nella chiesetta di San Martino e gli disse queste parole. Non sei solo a soffrire. Offri tutto per chi non crede, poiché chi non crede pecca. I peccati sono la causa di tutti i mali. La colpa è dell'uomo. Ti aiuterò. Domani ti mostrerò Gesù. Vieni e dia a coloro che soffrono di offrire per la conversione, perché non vi rimane molto tempo. Vi benedico. Ecco sono parole che ci ricordano un anniversario oggi. Quello domani ti mostrerò Gesù ci fa ricordare che proprio 33 anni fa come oggi il Santissimo Sacramento dell'altare entrò nella chiesetta di San Martino, in quella chiesetta dove il tabernacolo non c'era, dove Renato cominciò a sentire il desiderio di poterlo avere nei primi mesi delle apparizioni. Andò dal Vescovo di Vicenza di allora, glielo chiese, perché la Madonna gli aveva garantito che questo suo desiderio si sarebbe realizzato presto. Infatti nel 9 novembre dell'85 la Madonna apparendoli gli dice il tuo desiderio è giusto, l'Eucaristia, l'adorazione, il tabernacolo che non c'è, si realizzeranno presto. Tre settimane dopo si realizza il desiderio, si realizza questa domanda. Renato, ripeto, forte di queste parole andò dal Vescovo di Vicenza di allora che concesse il Santissimo Sacramento il quale proprio come oggi fu consacrato e depositato poi nel tabernacolo ed era il primo dicembre 95. Il giorno dopo, il 2 dicembre 85, come tutti sappiamo, Renato durante l'apparizione non vide più soltanto la Madonna che diventava viva come era successo fino a quel momento, ma anche il bambinello che porta in braccio in quella chiesetta, in quella statua che ben conosciamo, anche il bambinello prese vita, prese vita proprio da quel giorno in cui ci fu il Santissimo Sacramento. Ed era un segno molto grande, una catechesi gigantesca anche per noi, anche oggi, dopo tanti anni, perché la Madonna ha voluto mostrarci e darci la conferma di quello che la Chiesa ha sempre insegnato, ma che forse in tanti casi oggi si dubita, ossia che Gesù è presente veramente, realmente, sostanzialmente, in corpo, sangue, anima, divinità nel Santissimo Sacramento dell'altare. L'Eucaristia non è un simbolo, l'Eucaristia è presenza viva, presenza reale e con questo piccolo segno, piccolo grande giudicatelo voi, con questo piccolo segno la Madonna ha voluto proprio confermare quello che poi il Signore stesso ha dichiarato, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, quello che la Chiesa per duemila anni ha appunto insegnato. E diceva Renato, è un bambino che gesticola molto, quando la Madonna mi dice qualcosa, qualsiasi cosa, ma soprattutto qualcosa di serio, il bambinello col ditino indica, come dire attento, guarda che è importante quello che dice. Altre volte invece, quando la Madonna piange per i grandi peccati del mondo, dall'aborto al divorzio a tutto il resto, ecco che allora il bambinello va ad asciugare le lacrime della madre, col dettino della mano destra, con l'indice della mano destra, va ad asciugare le lacrime che escono dagli occhi della madre. E diceva Renato, il modo, il modo in cui quel bambino andava ad asciugare le lacrime della madre è stata una cosa per me sconvolgente, sconvolgente. Forse solo lui può capire, solo lui che ha visto può capire queste cose. Ma mi interessa anche un altro fatto, perché poco dopo a questo avvenimento Renato tornò dal Vescovo di Vicenza, allora Monsignor Unisto, e raccontò questo fatto, raccontò che il bambinello si era vivificato solo con l'ingresso del Santissimo Sacramento. E Monsignor Unisto, Arnoldo Unisto, che allora era il Vescovo di Vicenza, quando ebbe sentito da Renato il racconto di questo particolare, disse, testuali parole, questo fatto, signor Renato, l'aiuta molto a farsi credere anche da noi, perché se lei fosse un visionario avrebbe visto tutta la statua muoversi in questi otto mesi. E invece lei ha sentito solo la Madonna parlare e Gesù non si muoveva, ma ad un certo momento, quando venne consacrata l'Eucaristia Gesù si è mosso. Maria le ha fatto vedere il suo bambino, è un fatto su cui dobbiamo riflettere. Queste furono le parole di Monsignor Unisto, chi venne dopo scelse un'altra via invece, fece non solo chiudere la chiesetta e togliere il tabernacolo, ma purtroppo mise il filo spinato doppio intorno a questi luoghi e non è ancora stato del tutto tirato via purtroppo. Ma eccoci allora a questo messaggio che, oltre a raccomandarci domani ti mostrerò Gesù, ci dà un'altra affermazione, ci dà un'altra frase molto interessante. Chi non crede pecca, offri per tutti coloro che non credono, perché chi non crede pecca. Ecco fratelli, come mai chi non crede pecca? Perché oggi si ragiona diversamente, si dice ognuno è libero di pensare come vuole. Uno può credere, uno può non credere, uno può essere ate, uno può credere in qualsiasi religione, tanto è sempre Dio, è sempre un Dio unico. Ecco fratelli e sorelle carissime, permettetemi di dirvi che non è vero l'affermazione secondo cui tutti crediamo nello stesso Dio. Non è vero, non crediamo tutti nello stesso Dio. Se mi dite che Dio è uno solo, d'accordo, sono con voi, ma se mi dite che crediamo tutti nello stesso Dio, no. E vi dico subito il perché. È proprio l'Eucaristia, è proprio la presenza di Gesù, vero uomo e vero Dio, che ci dice che non crediamo tutti nello stesso Dio. Perché per noi cristiani cattolici Gesù Cristo è Dio, per gli ebrei no, per i musulmani no, è un profeta, è qualsiasi quello che volete, non è Dio. Per noi Gesù Cristo è vero uomo ed è vero Dio. E nell'Eucaristia Gesù è presente come vero uomo e come vero Dio. Quindi non crediamo nello stesso Dio. Non è la stessa cosa credere in una cosa o nell'altra, non è la stessa cosa. Chi ha conosciuto Cristo non può far finta di niente. Chi non crede pecca. E a dire la verità guardiamoci attorno. Vedo qui la reliquia di qualcuno, non so di chi sia, ma non importa. Pensiamo ai Santi. La Chiesa per fare i Santi deve avere almeno due miracoli. Miracoli testati dalla Chiesa. Uno per la beatificazione e uno per la canonizzazione. Quanti Santi ha fatto la Chiesa in tutta la sua storia? Quanti ne ha fatto Giovanni Paolo II in 27 anni? Ne ha fatto più lui in 27 anni di tutta la Chiesa nei 400 anni precedenti? Allora quanti miracoli ci sono stati perché questi possano essere riconosciuti come Santi? Quanti segni anche in questi luoghi che la scienza non sa capire fino in fondo? La croce che profuma, le lacrime del bambino Gesù eccetera eccetera. Quanti segni ci sono? Chi non crede pecca perché i segni ci sono per credere. Tutti quanti ci sono. Il Signore ha dato tutte le sue risposte a chi vuole credere. Chi non crede lo fa volutamente. Chi non crede lo fa per tanti motivi che non sta a noi sindacare e giudicherà il Signore ma come dice la Madonna pecca. Pecca come diceva San Paolo in fondo. San Paolo nella lettera ai Romani a un certo punto rivolgendosi agli ebrei e anche ai pagani che credevano in altri dei eccetera eccetera. Dice ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti dalla creazione del mondo in poi le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute come la sua eterna potenza e divinità. Molto chiaro San Paolo. Dalle opere create puoi capire che c'è un Dio che ha creato tutto quanto. Dalla perfezione delle opere tu capisci che c'è un Dio che ha creato. E aggiunge San Paolo essi sono dunque inescusabili. Chi non crede è inescusabile. Perché? Perché pur conoscendo Dio non gli hanno dato gloria né gli hanno reso grazie come a Dio ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa. E anche oggi quanto questo succede. Non si vuole riconoscere la perfezione del creato. Non si vuole riconoscere il disegno di una persona, di un'intelligenza che noi non possiamo nemmeno immaginare e che ha creato tutto quello che noi vediamo. Dalle perfezioni di questo mondo noi possiamo cogliere il Signore, colui che lo ha creato. Pertanto con tutti i segni che Dio ha dato, con la sua stessa rivelazione, chi non crede pecca. E forse abbiamo troppa paura di dirlo. Abbiamo troppa paura per quieto vivere. Abbiamo paura di dire bah tutto sommato dai non sei cattivo anche se non credi pazienza. No invece la Madonna ragiona diversamente. Dice appunto quello che abbiamo sentito. Ma accanto a questo bisogna guardare anche un altro fatto. Perché forse noi dividiamo il mondo tra chi va in chiesa e quindi crede e chi non va in chiesa e quindi non crede. Purtroppo non è così. Purtroppo non è così. La Madonna nel terzo messaggio, 7 aprile 85, disse in maniera chiara anche coloro che frequentano la chiesa non sono sufficientemente credenti. Sono parole che potete verificare, non è che me le invento io. Non tutti quelli che vanno in chiesa sono sufficientemente credenti. E forse di questo possiamo rendercene conto quando abbiamo letto recentemente, qualche settimana fa, due settimane fa mi pare, un'indagine che è stata pubblicata sul giornale Libero. La gente che non va più in chiesa è in caduta libera ormai. È in caduta libera. Se nel 2001, 17 anni fa, andava in chiesa mediamente ancora già quasi 20 milioni di italiani, quasi 20 milioni di italiani ogni domenica, oggi siamo a meno di 16 milioni. Abbiamo perso 4 milioni di persone in 17 anni che vanno in chiesa. Mentre quelli che non andavano mai in chiesa nel 2001, dal 2001 erano 8 milioni e mezzo, che mai andavano in chiesa neanche a Natale e Pasqua, sono diventati 13 milioni. Sono aumentati di quasi 5 milioni quelli che non vanno mai in chiesa neanche a Natale e Pasqua. I matrimoni civili hanno pareggiato quelli religiosi ormai. Anzi, la media viene tenuta su dal sud, dove quello religioso prevale su quello civile. Ma nelle regioni qui del nord il matrimonio civile ha superato di gran lunga quello religioso. I giovani che vanno in chiesa sono ormai il 13%. Cosa vuol dire? Che ogni 100 giovani, 13 vanno in chiesa e 87 non ci vanno più dopo la cresima. Chi non crede aumenta. Andavano in chiesa e non vanno più. Come mai? Non sono motivi di giudizio delle persone perché non spetta a noi, ma sono dati che ci dicono che c'è una paganizzazione continua, progressiva del popolo di Dio. Che la fede cristiana non è più il lievito della nostra società, non è più il lievito delle nostre famiglie. Se oggi su ogni 100 giovani 13 vanno in chiesa e 87 no, che sarà fra 10 anni? Che sarà fra 20 anni? Quando la stragrande maggioranza degli anziani che ancora vanno in chiesa non ci andranno più? Che cosa sarà se il Signore non interviene? Se la Madonna non ci mette la mano? Certo lei ci sta già mettendo la mano, ma che cosa abbiamo fatto? Quanto l'abbiamo ascoltata? Anche noi, carissimi, proprio un prete mi diceva stamattina, un po' in confidenza, ma io dice non capisco, non capisco. È un prete che è fatalità, ha una certa sensibilità, ma io non capisco. Ci sono delle persone anche qui presenti in chiesa dove sono andato a messa stamattina, vengono a messa tutte le mattine, dicono il rosario tutti i giorni e poi denunciano il vicino perché le foglie dell'albero cadono sul loro poggiolo, perché poi il cane abbaia eccetera eccetera. Non capisco, è chiaro, non capisco. Chi è che credente è questo? Che credente è questo? Domani vi mostrerò Gesù, ma come lo mostriamo Gesù in questo modo, se ci comportiamo così? Ecco fratelli vedete che alla fin fine si è ragionato un giorno, se vi ricordate un mesetto fa, c'era una chiesa nel Bergamasco che si voleva vendere e la comunità musulmana voleva comprarla loro per farne una moschea, vi ricordate forse questo fatto? Per fortuna la regione Lombardia è intervenuta e ha salvato la chiesa. Ma facciamoci un'altra domanda, come mai la chiesa è vuota? Dove sono i cristiani? Come mai i cristiani non vanno in chiesa la domenica? Perché se ci andassero non c'era problema, non c'era motivo di venderla. Il problema sì, va bene, possiamo dire gli altri, gli altri, gli altri, ma dobbiamo dirci anche noi cosa stiamo facendo come cristiani, come mai c'è questo calo sempre maggiore? E fratelli a proposito di chi non crede pecca, io sono stato, non so voi, lo dico fra parentesi per l'amor di Dio, io sono stato scandalizzato oggi perché sapete che oggi primo dicembre c'è la giornata, giornata nazionale o internazionale, non so, per la sensibilizzazione contro l'HIV, il famoso virus dell'AIDS, no? E sono stato scandalizzato quando ho visto interviste in tutti i telegiornali, persone sieropositive perché sapete che ultimamente l'HIV aumenta, non per la droga, ma per le vie sessuali. E a intervistare tutte queste persone vittime, naturalmente senza far vedere chi sono eccetera, e va bene, giusto? E tutti quanti passati dai telegiornali come vittime, come vittime. Ma se tu, come poi hai anche detto, perché poi tra le righe tu capisci, se tu vai con una compagna a settimana, se tu tradisci la moglie, se tu fai tutte queste cose, ma come fai a pensare di essere una vittima dell'HIV? Ecco, vedete, questa manipolazione mediatica, questo farci capire, questo rovesciare completamente, nessuno che ha il coraggio di dire, neanche la Chiesa, che ha il coraggio di dire castità, castità rispetto del Sesto Comandamento, questa è l'unica soluzione per non prendere l'HIV, questa è l'unica. No, si continua a girare attorno, poverini, per carità, poverini, sì, nel caso umano va detto, sono anche vittime, vanno aiutate, ma certamente, ma non facciamo passare queste persone che in fondo in fondo hanno sbagliato nel loro comportamento, non hanno rispettato le leggi di Dio, e ce ne sono tanti, ecco, e poi addirittura venire a dire che sono le vittime di questo HIV. Ecco, vedete, veramente siamo in una situazione, siamo in un mondo dove effettivamente c'è questo grande problema, il grande problema che chi non crede pecca, non solo perché pecca perché non crede, ma chi non crede ovviamente è più esposto a comportarsi come vuole lui, a trasgredire la legge di Dio, a fare quello che gli piace. È chiaro, chi non crede ha questa tremenda responsabilità e queste tremende conseguenze. Allora, carissimi, la soluzione è una sola, domani ti mostrerò Gesù, domani ti mostrerò Gesù. Ecco, diciamocelo, oggi mostrerò Gesù, oggi devo cominciare a mostrare Gesù, col comportamento coerente, la Madonna oggi questo ci chiede, mostrate Gesù ai fratelli. Carissimi, nei dati che vi ho detto prima del calo sempre più grande di quelli che vanno in chiesa, c'è una eccezione, l'eccezione è rappresentata dai santuari, i santuari mariani. Nei santuari non si conosce calo o si conosce un calo molto piccolo. Nei santuari, soprattutto quelli mariani, la gente non diminuisce. Come mai? È un segno, fratelli, è il segno che è la Madonna che oggi sta salvando la sua chiesa, anche se si continua a far finta che la Madonna non ci sia. È la Madonna che continua a salvare la sua chiesa. È la Madonna oggi che raccoglie sotto il suo manto materno tante persone. E allora vediamo, anche qui la Madonna ha voluto un luogo particolare in Mariano, un giorno forse sarà proclamato santuario anche questo. Benissimo. Ecco, la Madonna sta radunando tutte le sue fedeli, le persone sotto il suo manto materno. Ma chiediamoci che cosa si fa nei santuari? Perché la gente ama i santuari? Cosa c'è nei santuari? Si recita il rosario, si fa adorazione eucaristica, ci si confessa perché le confessioni, i confessori sono sempre a disposizione e si celebra la Messa, si annuncia la parola. Che cosa chiede il popolo di Dio? Questo evidentemente. Non chiede nient'altro, non chiede altre chissà quali, diciamo così, quali valori, perché oggi si parla tanto di valori. L'ambiente, l'immigrazione e la dignità del lavoro, la dignità dell'uomo, che sono valori giusti per l'amor di Dio, condivisi e condivisibili da tutti, giusti. Ma non credo che la Chiesa debba fermarsi su questo, credo che la Chiesa abbia un messaggio un po' più grande di questo, abbia il messaggio della salvezza delle anime, abbia il messaggio della vita eterna dopo la morte, dei nuovissimi di cui non si parla più, abbia il messaggio dell'eucaristia, dei sacramenti, della necessità del battesimo, eccetera, eccetera. Ecco che cosa si trova nei santuari. E allora permettetemi di concludere con alcune frasi di Gesù a proposito proprio di questa, anche dei santuari stessi, perché Gesù ne parla e dice, miei cari, dice un giorno, come il faro posto in alto guida i navigatori del mare, così ogni santuario della mia Santissima Vergine Madre posto sulla cima del monte è orientamento e luce per ogni uomo sulla terra. Ecco i santuari che di solito sono in posti elevati. Ogni santuario posto nel monte è appunto orientamento e luce per ogni uomo sulla terra. Io non so voi, a me capita spesso quando giro per qualche paese e vedi la chiesetta, il santuarietto lì di fianco, la chiesa parrocchiativa, mi hai sempre voglia, mi piacerebbe vederlo, mi piacerebbe andare, mi piacerebbe entrarci, mi piacerebbe, senti qualcosa nel cuore che ti attira. Lei l'immacolata, luce amica, intima, viva presenza che non può restare nascosta. Oggi lei non può restare nascosta. Guai a noi se la nascondiamo, guai a noi se la nascondiamo per paura, per paura di essere presi in giro, per paura del giudizio della gente. Non dobbiamo nasconderla, questa devozione. Capite perciò, continua Gesù, quale grande cosa sia agli occhi di Dio operare per amore e fedeltà alla mia Santissima Vergine Madre. In questo tempo cercate di capire quale grande cosa sia agli occhi di Dio operare, agire quindi, per amore e fedeltà alla mia Santissima Vergine Madre. Ecco allora quanto siamo fortunati in fondo a credere, a credere anche queste cose, quanto siamo fortunati a lavorare per Maria. Lavoriamo per Maria? Penso di sì, tutti quanti con la preghiera, con la testimonianza. Ecco, lavoriamo, sono sicuro. Domenica prossima, sabato prossimo ci saranno altre 300-350 persone che si consacrano alla Madonna. Bellissimo, bellissimo. Ma se poi non si lavora per Maria abbiamo capito poco. Bisogna lavorare per lei. È una grande cosa agli occhi di Dio lavorare per lei. E a proposito di lavorare per lei e di queste anime che lavorano per lei, voi, dice sempre Gesù, innamorati della Vergine Santa Madre mia Maria, sappiate che purtroppo non tutti comprendono la grandiosa sua opera. Questa opera sarà compresa solo da persone profondamente credenti e mariane. Tuttavia, partendo da queste anime, lo spirito dell'amore, dello zelo e della devozione a lei inonderà come un torrente di grazia, nei cuori e nella vita di questo e del futuro mondo. Ecco, fratelli, essere profondamente credenti, mariani, averlo zelo per Maria, interessarsi di lei, lavorare per lei, non passa inosservato. Partendo da queste anime, ed è una promessa, è una profezia, partendo da queste anime, lo spirito dell'amore, lo zelo per la casa di Dio e della devozione a lei inonderà come un torrente, come un torrente che straripa e inonda tutto. Inonderà come un torrente di grazia nei cuori e nella vita di questo e del futuro mondo. Ecco, la Madonna sta preparando questo futuro mondo. Carissimi, la lettura di oggi, la prima lettura di oggi concludeva con una piccola frase, verrò presto. Ecco, io verrò presto, diceva appunto l'autore dell'Apocalisse, che poi è parola di Gesù. E nel Salmo responsoriale abbiamo ripetuto, vieni Signore Gesù. Sì, fratelli, Signore Gesù viene, viene per mezzo di Maria come duemila anni fa, lo celebreremo fra 25 giorni, certo, come duemila anni fa Gesù tornerà per mezzo di Maria. Quindi non andiamo a distrarci in giro, stiamo sotto il manto di Maria. Questo movimento che cos'è? è un insieme di opere materiali e spirituali dove tutti si lavora per Maria, per il trionfo del suo cuore immacolato, dove vogliamo andare distanti da lei oggi, alla luce di queste parole di suo figlio Gesù poi fra l'altro. Ecco, allora vieni Signore Gesù e lui ci risponde ecco, io verrò presto, ma tutto sarà sempre e comunque attraverso Maria. Non venga meno la nostra devozione alla Vergine, non venga meno il nostro impegno per il trionfo del suo cuore immacolato perché, come abbiamo detto, l'importante per noi è continuare umilmente a credere e a chiedere il Signore in questi tempi duri, aumenta la nostra fede, Signore. Quale tristezza la domenica mattina da uscire dalla chiesa e vedere gente che non ha il tempo di andare in chiesa, ma fa jogging, va col cagnolino a passeggio, adesso col capottino naturalmente perché fa freddo e tutte queste cose. Quanta tristezza oggi, quanta tristezza. Ma non dobbiamo temere, Gesù ce l'ha detto, attraverso queste anime zelanti per Maria si inonderà un nuovo amore, una nuova devozione a lei. Ecco, allora, lavoriamo tutti insieme e sia lodato Gesù Cristo. Chiudiamo la nostra via crucis rivolgendoci proprio all'Immacolata. Ave Benedetta, Benedetta sei, o piena di grazia, oggi la Chiesa con la più grande venerazione ricorda la pienezza di questa grazia di cui Dio ti ha colmata dal primo momento del tuo concepimento. Ci riempiono di gioia le parole dell'Apostolo, laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Siamo lieti di questa particolare abbondanza della grazia divina in te, che porta il nome di Immacolata Concezione. Madre, accoglici così come siamo qui accanto a te. Accoglici, guarda nei nostri cuori, accogli le nostre sollecitudini e le nostre speranze. Aiutaci tu piena di grazia a vivere nella grazia, a perseverare nella grazia e, se fosse necessario, a ritornare alla grazia del Dio vivente, che è il più grande e soprannaturale bene dell'uomo. Preparaci alla venuta del tuo figlio. Accoglici con i nostri problemi quotidiani, le nostre debolezze e deficienze, le nostre crisi e le mancanze personali, familiari e sociali. Non permettere che noi perdiamo la buona volontà, non permettere che perdiamo la sincerità della coscienza e l'onestà della condotta. Con la tua preghiera ottienici la giustizia, salva la pace in tutto il mondo. Sii con noi, tu, o Immacolata. Sii con noi, sii con la Chiesa, sii con tutto il mondo e con tutte le nazioni. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento contro la perfidia e l'enside del diavolo. Sii nostro presidio. Ti chiediamo, supplichevoli, che Dio lo abbia a vincere e tu, Principe delle milizie celesti, con la potenza di Dio rinchiudi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo per rovinare le anime. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia benedetta la santa ed immacolata concezione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. E per intercessione di Maria, Regina dell'amore, di San Giuseppe e di tutti i Santi, dei nostri angeli custodi, il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella Tua intercessione, noi affidiamo a Te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, noi ci consacriamo a Te, a Te, Regina dell'amore. Sia lodato Gesù Cristo. E se non ci vediamo più, in più sentiti auguri di Santo Natale e di Santificante Anno Nuovo.